ragazzi buona serata stasera diamo un po po leggeri per modo di dire comunque mangiamo una bella insalatone allora qui ho già messo la base di insalata valeriana ho già cotto tre uova le ho già posizionate un attimino per accelerare un attimino il discorso ho fatto una specie di di fiori diciamo andiamo andremo a mettere dei pomodorini a ciliegie che ho già tagliato ho saltato in padella della pancetta fumicata senza audio segnale che ho fatto piccolo di dei crocantini la feta le olive verdi ho tagliato 4 peperoncini a metà quelli pieni di ricotta e capperi un po di capperi e andremo a mettere anche della mela poi andremo a condire tutto con una citrone sitone non è altro che del limone con la sena per l'olio d'oliva un po di sale quindi viene fuori la citrone andiamo a cominciare ho già fatto la base per accelerare un attimino insalata valeriana e le uova andiamo a mettere i pomodorini cerchiamo di dare un po di certa armonia al piatto ok andiamo a mettere la fetta non ho messo la mozzarella ho messo la fetta che è una temina un po più insalata un po di colore ho messo la fetta ecco volevo un attimino lasciare che venisse fuori una un fiore diciamo qualcosa mettiamo le olive ecco Ok, mettiamo un po' di capperi. Vado a mettere la mela, pulisce anche un attimino. Poi dovete girarlo un attimino per la presentazione, mettiamo i croccanti di pancetta. Iniziosa. Prendete un po' di creca che avete in casa. Poi prendiamo la sintonia. Prendete un po' di creca. Questo è un piatto tutto. Piatto unico. Credo sia buona, vi assicuro che è buona. Provatele che è veramente una delizia. Ciao ragazzi, una buona serata. Buona serata. Grazie. Grazie. Grazie.